Expo Car, Alvia e Tena Fiere, fino al 17, il meglio delle macchine e delle auto. Il meglio delle macchine e delle auto è direi di tutto il settore motoristico, a cominciare dai servizi, dall'automotive, da tutti i servizi che ci sono oggi in continua evoluzione, perché oggi il settore automobilistico è una cosa straordinaria, anche se c'è un periodo un pochettino particolare. Qui troveranno all'Expo Car, a Etna Polis, tantissime aziende che presentano le ultime news di auto e moto, ma non solo, ma anche di servizi e accessori e componentistica dell'automobile. Enzo, la passione per le auto è diventata veramente uno stile di vita? Ebbè, io la prima volta che ho comprato la mia prima, diciamo, bella macchina, l'ho vista in esposizione all'Expo Car, ho visto questo BMW per quattro giorni, dopo di che l'ho comprato, quindi diciamo che l'appetito viene mangiando. Volevo far notare la presenza delle nostre miss, perché noi facciamo anche un concorso di bellezza legato alla sicurezza stradale, infatti lei è la prima nazionale che ha vinto lo scorso anno ed è ospite, quest'anno è stata la madrina del nostro concorso. Ma già quest'anno, oggi, stiamo partendo con la prima selezione a Catania per ripartire e trovare la vincitrice del prossimo anno. Si dice che gioie e dolori, donne e motori, eccetera, qua invece vedo che ci sono molte gioie e pochi dolori. Molte gioie e pochi dolori, sì, basta guardare le facce delle persone ed è bello perché sono tutti allegri e, d'altronde, donne e motori, dove ci sono le donne e belle auto, ci sono belle auto, belle donne, insomma c'è di tutto e di più, vi aspettiamo alla grande. Sentiamo anche loro, ovviamente, allora le macchine sicuramente sono affascinanti, qual è la macchina che ti piacerebbe guidare adesso, ora, subito? A me piacerebbe guidare la Ferrari Rossa, mi sono innamorata appena ne sono salita, quindi mi piacerebbe quella. Un'edizione tutta da scoprire, tutta da vedere, tutta da ammirare perché le macchine sono veramente straordinarie? Assolutamente sì, va certamente il plauso a Enzo Messineo, alla sua tenacia, alla sua caparbietà, alla sua professionalità nell'avere organizzato per il diciannovesimo anno consecutivo questo evento che ha superato i confini della nostra regione. Un evento molto importante anche perché permette di valorizzare un comparto, quello e quello automobilistico, che ha conosciuto più di altri la crisi, ma che finalmente nel 2015 sta registrando un segno positivo in termini di matricolazione, di vendite, con quello che ne consegue. Attraverso questo evento si permette anche di dare un'avvocata ossigeno all'economia che attraverso l'evento feristico trae un indubbio aggiovamento. Penso al comparto commerciale, al settore dell'attività ricettiva che grazie a questi eventi può comunque permettere di registrare nuovo ossigeno. Ecco perché a Enzo Messineo e a Trexpo, a Barbara Mirabella va certamente il plauso delle istituzioni. Grazie a tutti.